E sta per partire, è pronto Morezzi sul punto di battuta, va direttamente in porta il calcio d'inizio della Ragnatela Pub che ospita appunto l'M Servizi Gianicolo in questa prima giornata di ritorno, importante per quanto riguarda la zona playoff appunto le due squadre appagliate a 20 punti rispettivamente quinta e sesta, quindi i padroni di casa della Ragnatela Pub sesto l'M Servizi Gianicolo per differenza reti vanno ad affrontarsi in una sfida appunto importante già altri risultati sono stati vissuti lungo questa giornata ma questo è l'incontro diciamo principale tra lo scontro e diretto tra due pretendenti alla stessa zona, occhio alla palla subito allargata a destra da Morezzi che ha cercato Cardinali bravo a guadagnare il primo corner per la Ragnatela Pub quando non è passato nemmeno un minuto di gioco già vediamo quella che potrebbe essere una soluzione per quanto riguarda i ragazzi di Matteo Dupachie quella del lancio lungo a cercare i tagli sulle fasce dalla Madirena va all'Ani, tanti uomini in mezzo Gran Mucchio riesce ad allungare la traiettoria della sfera a Gimelli, d'Anversa non arriva allora solo fallo laterale per la Ragnatela Pub se ne va a occupare Tombesi, ritorno importante al centro della difesa dell'M Servizi quello di Gimelli nel frattempo Placido che esce dall'area, prova a far passare la sfera che viene deviata sarà di nuovo fallo laterale in favore della Ragnatela, se ne va a occupare di nuovo Tombesi che appoggia a D'Anversa di nuovo Tombesi col tacco, bello per D'Anversa, in area D'Anversa appoggia e arriva subito il vantaggio della Ragnatela Pub il gol dell'1 a 0, l'ha messa Daniele Placido, 1 a 0 per i ragazzi di Dupachie che partono fortissimo e allora nemmeno due minuti sul cronometro del direttore di gara, i padroni di casa sono già in vantaggio ha segnato Daniele Placido, lesto nell'occasione ad approfittare di un'incursione di Tommaso D'Anversa non è stata ottima la guardia montata dalla difesa dell'M Servizi Gianicolo che rispetto alle prime giornate sembra aver perso un po' attenzione all'Anico il tiro che sfila lungo tutta l'area di rigore, dicevamo la solidità che le aveva permesso di battere per esempio su questo terreno nella prima giornata nel proprio esordio stagionale nella Serie A 2014-2015 il Cotton Club per 3-2, quella solidità che le ha permesso di giocarsi fino all'ultimo minuto la vittoria poi sfumata contro il Checco dello Scapicollo, una squadra che deve un po' ritrovarsi ma che comunque anche contro il Cottini aveva dato buoni segnali di risveglio almeno nella prima frazione dopo un avvio brutto che aveva appunto portato alle prime tre realizzazioni del Cottini che poi ha avuto la strada spianata per quanto riguarda la qualificazione vediamo infatti che la Ragnatela continua ad avanzare con Cardinali stavolta il tentativo è altissimo sopra la traversa di Proietti che oggi in tenuta bianca costretto ad indossare un freddino blu per differenziarsi appunto dai giocatori della Ragnatela Pub Proietti al rinvio largo con le mani, c'è Severini che stoppa e la dà indietro un proprio compagno di squadra con la maglia numero 15 Merlonghi c'è poi Mastrelli a cambiare fronte dall'altra parte dove il controllo di Ulisse è difettoso infatti la sfera esce in fallo laterale, non abbiamo avuto tempo nell'inizio di gara subito caratterizzato dal gol di Placido di leggere i convocati con le quali le due formazioni si sono presentate a questo appuntamento lo facciamo ora partendo come di consiglio dagli ospiti dell'M Servizi non importa il numero 1 Proietti, il numero 3 Gimelli, nel frattempo un fallo che viene fischiato dal direttore di gara sul controllo di Morezzi, stava partendo il contropiede dell'M Servizi continuiamo con il numero 9 Daniele Cittadini, 10 Luca Severini, 11 Alessandro Corsi, 13 Valerio Mastrelli 15 Tiziano Merlonghi, 17 Luca Vedriani, 22 appunto con la fascia di capitano Daniele Ulisse 23 Damiano Balzani, è arrivato da poco sul terreno del gioco, ha già effettuato le operazioni di riconoscimento il numero 16 Alessandro Pasciente, ricordiamo agli ordini di mister Valentino Fabiani il calcio di punizione per la ragnatela sembra voler essere interpretato con un lancio teso all'interno dell'area così è, parte la palla che Proietti lascia lì e poi riesce su Placido che non riesce a ribadire dentro sta per fare una frittata, Proietti non è approfittato Placido, comunque fallo fischiato dal direttore di gara quindi nulla di fatto Gimelli Danversa nel frattempo è entrato in possesso della sfera al quarto minuto e 30 secondi ma gioco fermo e punizione in favore dell'M Servizi che prova a scuotersi col solito Severini vuole andare a liberare il destro Severini, c'è l'opposizione di Tombesi aveva tentato la conclusione diretta sul primo palo, il numero 10 che tante volte è riuscito a fungere da trascinatore dei propri compagni di squadra sia quando c'è da impostare l'azione che quando c'è da finalizzarla qui Balzani va a perdere il pallone, Tombesi con esperienza lo fa uscire, leggiamo i convocati allora della ragnatela Pabba oggi agli ordini di mister Matteo Dupachè oggi è come al solito naturalmente il numero 1 Alessio Ripani, 2 Mirko D'Arpino, 3 Emiliano Marinucci col 4 Nicola Fatone col 5 Francesco Lani, col 6 Gianluca Ponziani, col 7 Emanuele Cardinali, col 10 Mauro Morezzi con l'11 Alessio Tombesi, col 14 Daniele Placido che è già andato a rete occhio a Danversa dentro! punizione veloce di Lani, Danversa si fa trovare al posto giusto, al momento giusto è il raddoppio della ragnatela Pabba, 2 a 0 al Ciriaci allora sesto minuto, 2 a 0 per la ragnatela Pabba che è partita davvero fortissimo l'M Servizi Gianicolo protesta per l'assegnazione del calcio di punizione a centrocampo mentre leggevamo la formazione, appunto i convocati della ragnatela Pabba non c'eravamo quasi nemmeno accorti della punizione battuta da Lani, veloce stiamo enunciando il nome del primo marcatore placido quando è arrivato il nome del secondo appunto, marcatore Tommaso Danversa in maglia numero 37 che va a chiudere la lista di convocati dei padroni di casa che qua devono però cercare di contrarsi per non subire la reazione dell'M Servizi Gianicolo che verosimilmente con un doppio svantaggio dovrà riversarsi in avanti sin dall'inizio, sfera controllata solo per un attimo dal centrocampo si ricomincia da Gimelli che allarga, poi con Severini per Balzani ancora Severini, Morezzi chiama alto il pressing di Lani, Severini porta palla attende che qualcuno si smarchi, poi va in verticale dentro, occhio allo stop che è difettoso però da parte del numero 9 crediamo Daniele Cittadini Villari da fuori al campo chiama la pressione alta appunto del suo numero 9 che è andato a perdere la sfera in quell'occasione, Balzani occhio alla palla fuori per Severini che ne ha sempre due intorno stavolta addirittura Danversa, poi parte una conclusione del numero 15 Merlonghi buona l'intenzione, non la precisione del suo destro potente ma largo alla destra del palo difeso da Ripani, abbiamo visto come Danversa nell'occasione precedente si è andato anche a coprire anche se con poca efficacia perché è riuscito ad andare via comunque l'attaccante dell'M Servizi, qua Gimelli scalcia via il pallone su una contestata decisione del direttore di gara da parte dell'M Servizi saranno trattenuti tutti e due i giocatori, l'arbitro ha optato per la punizione in favore della ragnatela pub, Danversa Gimelli è uno scontro fisico che crediamo ci accompagnerà per tutta la gara, Gimelli nel frattempo viene ammonito per aver allontanato il pallone Gimelli che è rientrato praticamente oggi dopo l'assenza che aveva privato l'M Servizi Gianicolo in chiusura di 2014 della propria colonna difensiva è certo una munizione pesante soprattutto perché l'M Servizi dovrà scoprirsi e andare appunto a cercare di offendere con più uomini possibili rischiando di lasciare dietro proprio il solo Gimelli che ora da già ammonito non potrà più spendere falli tattici come si suol dire nel frattempo Proietti che conosce bene le qualità balistiche del numero 10 della ragnatela pub Mauro Morezzi ne va a mettere 4 in barriera più Cardinali che fa da quinto parte Morezzi a giro, c'è la deviazione con la testa proprio di Gimelli crediamo che poi chiama la salita dei propri difensori Tombesi a scodellare un altro pallone, stavolta facile preda per Proietti il suo rinvio è corto, vuole ragionare da dietro l'M Servizi Gianicolo con Ulisse poi Gimelli il lancio in verticale è impreciso perché anticipa bene Tombesi poi è tentato addirittura la conclusione il numero 13 Mastrelli giallo anche per Morezzi evidentemente il direttore di gara vuole tenere da subito in pugno la situazione c'era stata la scivolata c'è stato il tocco su Mastrelli cartellino giallo per il numero 10 della ragnatela c'è Severini che tenta di spiegarsi amichevolmente con Danversa per quanto riguarda l'occasione precedente c'è anche Lani in zona i due protagonisti del raddoppio della ragnatela pub Lani l'uomo assist sulla punizione battuta velocemente che ha colto impreparati quelli dell'M Servizi Gianicolo allora è la prima rete per Tommaso Danversa in regular season della Serie A della Liga Calciotto lui che era andato a segno in Coppa Italia Severini ne ha tre di fronte in barriera si è allargato Merlonghi Severini va in porta è buona l'intenzione alta la traiettoria anche in questo caso e Ripani potrà rimettere senza problemi l'ultima sfida qui giocata al Cerieci dalla ragnatela pub l'ultima anche in ordine temporale del 2014 per quanto riguarda la regular season è stata vinta 4-1 contro la San Giovannella testimonianza che i ragazzi di Tupacchie sanno offendere bene per quanto riguarda almeno gli incontri casalinghi meritano la posizione nella quale si trovano al momento qua c'è il fallo di Tombesi simile a quello per il quale prima Morezzi aveva trovato il cartellino giallo che è servito però forse un po' per pareggiare quello offerto a Gimelli proprio in apertura per proteste Ponziani qua va a cercare di ritardare la battuta della punizione vediamo quanti ne metterà Ripani è il solito Luca Severini andare al tentativo di battuta c'è solo Danversa in barriera con Balzani che stavolta si è messo largo a destra in area Gimelli Mastrelli e Ulisse dall'altra parte parte Severini è un appoggio per Balzani lo schema dentro il tacco e la grande occasione per l'M Servizi ce l'ha avuta Mastrelli bravo Ripani il riflesso di Alessio Ripani sul tacco, sull'ottima idea per tentare di marcare il gol che avrebbe accorciato le distanze da parte del numero 13 Valerio Mastrelli che sarà andato a porre in area con lo schema ben congegnato l'appoggio da parte di Severini lungo linea per Balzani che è messo di prima dentro azione simile a quella che ha portato al vantaggio della Ragnatera Pab con un cross dal fondo stavolta è stato sfortunato Mastrelli bravo Ripani a non cadere nel tranello del tacco che comunque gli è finito vicino al braccio nell'occasione qua Morezzi va a scodellare un gran pallone con esperienza la mettono fuori quelli dell'M Servizi che non vogliono correre rischi e allungano la palla verso Cittadini ma l'ha già riconquistata la Ragnatela che oggi sembra avere buon piglio scivola poi in area di rigore Placido che era andato in inserimento tre vittorie e tre pareggi per quanto riguarda la Ragnatela Pab negli incontri appunto qui al Ceriaci Morezzi in scivolata Ponziani fortunato penner in pallo forse con un braccio prova andare avanti Ponziani Placido ha un buon controllo ha tornato da due uomini si libera ancora del pallone per Ponziani il poggio impreciso Balsani può intervenire e far ripartire con pazienza da Merlonghi che allunga la palla verso Tombesi che la tocca Severini controlla in area Severini Severini sempre lui altro sombrero in Ripani con un super intervento nega il gol dell'1-2 dopo una gran giocata di Severini Severini un'azione travolgente sulla destra fatta di classe che è andata alla conclusione col piede non so attenzione allo stacco nel frattempo ha tentato direttamente crediamo Daniele Cittadini di andare in terzo tempo tutto lasciato tutto solo dai difensori della Ragnatela Pab ha potuto staccare da centro area non è stato abile però a toccare la sfera appunto con la punta della testa qui Danversa la protegge su Gimelli si fa poi far tunnel poi Danversa ad esterno ma la palla non passa allora Balzani a Gimelli vicino a sé che decide di ricominciare da dietro la sfera non esce allora palla a Merlonghi Merlonghi che positivamente ha giocato per esempio per quanto riguarda attenzione alla palla sbagliata Danversa può andarci Merlonghi deve chiudere in qualche modo poi proietti in uscita direttamente con i piedi altra sfera regalata in uscita dall'M Servizi che sbaglia questi passaggi in orizzontale assolutamente killer soprattutto se davanti è uno come Danversa che riesce sempre a trovare spazio come in questo caso occhio a Danversa prova a farla passare va a disfondamento ma in due lo vanno a chiudere nella circostanza Cittadini a ricominciare da Balzani che come al solito da ordine ripartendo da Ulisse che ha provato a predicar calma nell'azione precedente dal suo lato non sta correndo attenzione al colpo di testa intanto Ripani può bloccare tranquillamente diciamo che non è dal lato di Daniele Ulisse che sta soffrendo tanto la difesa dell'M Servizi quanto le invettive centrali di una Ragnatera Pub quanto mai decisa a prendere le distanze dalla propria rivale in zona play-out Danversa bello lo scambio con Lani e in qualche modo proiettivo arriva ancora Danversa Lani rimane a terra nell'occasione l'arbitro ferma il gioco vediamo a chi assegnerà il calcio di punizione nel frattempo Lani è rimasto a terra dopo il duro scontro con Ripani scusate con Proietti che comunque era uscito a valanga con i pugni prendendo il pallone con le mani e in attesa che Lani appunto si rialzi e riprenda il gioco noi andiamo un attimo in pausa e rieccoci con la punizione che verrà battuta dall'M Servizi Gianicolo quarto d'ora del primo tempo 2-0 per la Ragnatera Pub che ha iniziato fortissimo con i gol di Placido e Danversa sorprendendo un'M Servizi Gianicolo stranamente scoperto nella zona difensiva e centrale quella che appunto come dicevamo aveva costruito le fortune della squadra di Villari che con 25 gol fatti 27 subiti seppur abbia una differenza reti appunto sfavorevole con segno negativo occupa la sesta posizione dopo aver nelle prime 5-6 giornate essere stata in lotta appunto proprio per la vetta della classifica qui Merlonghi va a subire fallo infatti il direttore di gara segna solo fallo laterale sull'intervento di Tombesi si va da Balzani che allarga per Ulisse che prova la conclusione col sinistro aveva lo spazio buona l'intenzione buona anche la copertura di Lani che qua va a raccogliere la copertura di Danversa poi Morezzi con la solita eleganza per Lani lungo linea la grande per Placido solo in area Placido la sfera scorre alla destra del palo difeso da Proietti grande mobilità grande capacità di andare in profondità per quanto riguarda gli avanti della Ragnatela Pub che avendo il solo come solo c'entra avanti Tommaso Danversa riescono tante volte a sfruttare gli inserimenti da dietro delle proprie ali stavolta è stato Placido che evidentemente non è assolutamente sazio dopo la prima rete segnata in apertura dopo nemmeno due minuti a portare in vantaggio i suoi qua Danversa ancora cercato ha una buona protezione prova a girarsi col sinistro Danversa Proietti sul primo palo attento ma concede corner e nel frattempo mister Dupachier ha chiamato time out al sedicesimo minuto e dieci secondi 2 a 0 per la Ragnatela Pub sull'M Servizi Gianicolo nella tredicesima giornata di Serie A noi andiamo in pausa e ci risentiamo tra poco tutto pronto per la ripresa delle ostilità sarà Lani ad occuparsi del calcio d'angolo assegnato alla Ragnatela Pub nell'occasione precedente corner dentro andato a staccare Ponziani palla semirovesciata Morizzi in qualche modo la palla rimane lì Ulisse ha salvato sulla bella azione in area della Ragnatela il contropiato è già partito dall'altra parte Severini col tiro che sfila di pochissimo alla destra di Ripani e un'M Servizi che sempre col solito Luca Severini riesce a essere pericoloso ma non riesce a pervenire al gol che accorcerebbe le distanze e riaprirebbe di fatto le danze qui al circolo sportivo c'è da dire che al diciottesimo minuto del primo tempo tra le due squadre così ben attrezzate nemmeno il vantaggio di due reti può essere un viatico sicuro per i tre punti per quanto riguarda la Ragnatela che infatti vuole e sta provando a continuare ad offendere anche se qui Danversa va a perdere banalmente la sfera Balsani la offre a Severini che stavolta sbaglia per il puntuale ritorno di Cardinali che offre a Ponziani solo per un attimo la rimessa laterale è assegnata alla Ragnatela Pab con qualche protesta di Merlonghi che dicevamo aveva esordito e bene scusate no si tratta di Vetriani anche io aveva esordito bene nella sconfitta dell'M Servizi Gianicolo in trasferta contro il Football League Roma Nord al Donorione sconfitta per 2-1 che ha dato inizio a un periodo non possiamo chiamare di crisi diciamo perché è una squadra comunque che si trova al sesto posto al momento e si sta giocando appunto la permanenza tra quinto e sesto posto ora all'inizio alla fine scusate del girone d'andata contro i diretti rivali ma certamente lo score di inizio anno non è lo stesso per i biancorossi che provano a rialzarsi sempre con Severini non viene concesso il fallo ma stavolta la ragnatela un po' in apnea va a rinviare chissà che l'inizio sprint vediamo Placido sotto la nostra postazione andare in pressing non possa alla lunga appunto giovare all'M Servizi che invece pian piano sta provando ad uscire Merlonghi prova lui col destro la sfera passa Ripani forse non l'aveva vista partire esce comunque all'altezza del suo primo palo altra chiara occasione per l'M Servizi Gianicolo e già ne contiamo tre dal momento del 2-0 Ragnatela che deve stare molto attenta anche perché qua recupera palla Mastrelli che va direttamente in porta Ripani recupera la posizione con uno scatto di Reni sovrumano Mastrelli non ci ha pensato un attimo la sfera è recuperata sull'altri quarti e questo il Siriaci è uno dei terreni più larghi per quanto riguarda la Serie A della Lega Calciotto andò direttamente in porta a giro sfera sotto l'incrocio Ripani con un intervento straordinario ma continua l'M Servizi cross deviato di Severini che a questo punto meriterebbe almeno il gol dell'1-2 in una partita sia apertissima che ha visto però realizzare subito le due reti per quanto riguarda la Ragnatela meno precisi meno fortunati i ragazzi in maglia bianco-rossa e qui vanno a conquistare un altro calcio di punizione sul settore destro Severini lo batte velocemente dall'altra parte c'è Gimelli preso in controtempo stavolta la scelta del numero 10 non è premiata dai propri compagni di squadra che sembrano comunque seguirlo alla grande in questo inizio di Lega dove su nuove presenze appunto Severini ha messo segno nove gol con l'ottima media di un gol a partita che non hanno in molti in questa Serie A molto equilibrata di quest'anno Gimelli con la spalla ad anticipare Severini a dar continuità all'azione ancora Gimelli a destra al lato corto c'è il cross la chiusura decisiva stavolta è di Ponziani non c'erano uomini all'interno dell'area di rigore ma ancora una volta nel mio servizio si è andato a offendere quasi in superiorità numerica in contropiede va Severini cross largo direttamente fuori c'è Ulisse che deve addirittura inseguire la sfera per impedirne l'uscita in fallo laterale questo calcio d'angolo è totalmente sbagliato da parte del numero 10 che va addirittura a offrire alla Ragnatela l'opportunità di ripartire anche se sfruttata solo in parte da Tombesi buona la protezione palla del numero 11 che sbaglia il passaggio per Morezzi tacco dentro dove interviene Ponziani che pulisce il limite dell'area di rigore calciando direttamente per la rimessa dal fondo che verrà battuta da Proietti che nell'ultima occasione appunto di Serie A è riuscito a tenere inviolata la propria porta segnatamente contro il De Angelis vittoria importante allo Sport City in un incontro molto teso e chiuso per una 0 quella dei ragazzi di Villari che vorrebbero recuperare appunto replicare qui al cospetto di una Ragnatela Pub che ha resistito agli attacchi e qua va a offendere di nuovo con Proietti che non rischia la presa sul cross di Cardinali stranamente per un portiere di solito molto sicuro come lui sbaglia anche Morezzi Cardinali decide di ricominciare direttamente da Ripani che con due interventi decisivi su Severini e Mastrelli sta tenendo inviolata la propria porta e continua a tenere a due reti il vantaggio della Ragnatela Pub quando mancano circa tre minuti alla fine della prima frazione Danversa stoppa una sfera verso l'esterno provandola andarla a riprendere ma c'è il gran recupero di Merlonghi che è molto più veloce di lui e ribalta l'azione sull'altro fronte da destra verso il centro Merlonghi con Balsani che ha pazienza e intelligenza per ricominciare da Gimelli c'è larghissimo Ulisse c'è servito ancora Balsani che pensa al tiro ancora Ripani a due mani a mettere in corner corner battuto attenzione al lato corto altro calcio d'angolo sarà stavolta l'ha provato Luca Vedriani ad entrare direttamente con il pallone al piede in area di rigore corner lunghissimo dall'altra parte quando scelgono la soluzione sul secondo palo quelli dell'emme servizi vanno inevitabilmente a colpire con troppa forza il pallone ed è già la seconda occasione consecutiva in cui da in cui da corner viene giocata la palla direttamente sul secondo palo troppo lunga ad offrire il fallo laterale Ponziani lungo su placido che spizza di testa per Tombesi nell'insolita posizione di centravanti sull'uscita di Tommaso D'Anversa entrato nel frattempo Mirko D'Arpino a rimpolpare la retroguardia di Dupachie per questi ultimi due minuti della prima frazione tra poco la segnalazione del direttore di gara per quanto riguarda il recupero Merlonghi palla dentro l'appoggio fuori per Mastrelli è arrivata la chiusura della ragnatela vuole arrivare Morezzi a rilanciare l'azione dei suoi lo fa in verticale l'appoggio di Tombesi è di nuovo per Morezzi che va col mancino bella combinazione palla alta sulla traversa è stata buona la combinazione tra Morezzi e Tombesi due si intendono nonostante Tombesi occupi ora una posizione che probabilmente ha ricoperto raramente anche nella sua carriera illustre che l'ha portato anche ad esordire in Serie A con il Parma per quanto riguarda la stagione 2007-2008 vediamo Gimelli salire e andare in verticale da Severini che stavolta trova il corridoio per Merlonghi palla dietro e stavolta non sbaglia Valerio Mastrelli è lui a segnare il gol dell'1-2 dell'M Servizi Gianicolo che in chiusura di primo tempo riapre il conto al Ceriaci la partita dava la sensazione di non essere assolutamente conclusa in apertura sul doppio vantaggio della Rognatela dopo tanti tentativi l'M Servizi la rimette in piedi ha colpito in una delle ultime occasioni di questa prima frazione l'M Servizi Gianicolo perché il direttore di gara ha segnalato ora un minuto di recupero allora dopo il doppio vantaggio firmato il placido su assist di Danversa e lo stesso Danversa su assist di Lani è stato Merlonghi ad offrire a Mastrelli dalla destra la palla da spingere soltanto in rete stavolta Ripani avrebbe dovuto compiere un miracolo assoluto per evitare che la sfera carambolasse le proprie spalle come invece così è stato allora Morezzi dall'altra parte per Cardinali la Rognatela vuole chiudere in attacco Cardinali prova col mancino il piede non è quello giusto appunto quello usuale per quanto riguarda Cardinali si vede la conclusione esce strozzata Proietti va a rinviare lungo su Mastrelli stacca Morezzi direttamente in fallo laterale vuole addirittura il gol del pari prima dell'intervallo l'M Servizi è qua palleggia con Mastrelli bravo a liberarsi ad appoggiare poi a Severini il dribbling è però forzato su Darpino che va a ripartire Balsani forse lo spinge l'arbitro non se ne vede allora Severini direttamente dalle parti di Ripani che blocca sta per scadere l'arbitro controlla infatti il cronometro per quanto riguarda il primo tempo duplice fischio la Ragnatela Pab conduce per 2-1 sull'M Servizi Gianicolo primo tempo frizzante avvio tutto della Ragnatela che poi però ha dovuto retrocedere sotto il tentativo di rimontare dei Biancorossi noi ci risentiamo per la ripresa tutto pronto per l'inizio della ripresa tra Ragnatela Pab e M Servizi Gianicolo tredicesima giornata della Serie A della Lega Calciotto la prima di ritorno la prima del 2015 il regular season per tutte e due anche se a dire il vero la prima appunto del 2015 per l'M Servizi è stata la sconfitta in Coppa Italia al secondo turno contro il Cottini servizi assicurativi squadra che è andata a battere ed eliminare anche la Ragnatela Pab al primo turno battendola per 5 scusate per 7-3 e 5-2 è stato invece il punteggio in favore dei Biancoverdi contro l'M Servizi stasera invece qui al Cireci partita molto equilibrata e 2-1 il punteggio avvio shock per quanto riguarda l'M Servizi Gianicolo che è caduto per ben due volte sotto i colpi di una Ragnatela Pab veloce e cinica nelle azioni che è riuscita a creare l'M Servizi ha avuto la forza di controbattere come qui con Balsani che va a destra parte un tiro cross la lascia lì ripani e poi Severini grande parata di ripani sul tiro cross non era facile stava andando verso il centro c'è dovuto andare con la mano di richiamo e c'è Balsani nel frattempo che ha riappoggiato sulla destra per Severini ancora Balsani e solo può crossare ripani non può bloccarla ma può servire in qualche modo Morezzi che va direttamente a un lancio barra tiro bloccato da Proietti che è già rimesso e sembra essere lo stesso del finale del primo tempo il Canovaccio con l'M Servizi Gianicolo che riesce a essere più propositivo più incisivo più preciso avere più testa forse sul campo rispetto a una ragnatela che seppur abbia trovato due gol nei primi minuti ha finito per schiacciarsi pericolosamente e subire il gol dell'1-2 solo dopo molte e molte occasioni fallite dai biancorossi e per merito di un ripani che è andato più Gimelli sale nel frattempo e supera il cerchio di centrocampo prova ad andare in verticale da Severini da fungere da anzi era Cittadini scusate fungeva da centravanti in questa occasione così come dall'inizio della gara qua Cardinali prova a subire fallo alla fine ci riesce da Luca Vetriani che viene comunque con il quale si complimenta Villari qui vicino alla nostra postazione che si chiama Villari squalificato fino al 31 marzo ma che non manca mai di dare il proprio appoggio ai propri giocatori occhio a Lani sulla destra il cross all'indietro per Tombesi che mira col sinistro la sfera simila vicino alla traversa e allora eccola la prima occasione per quanto riguarda la ripresa della Ragnatela Pub che si era fatta schiacciare nel corso di tutta la seconda parte della prima frazione da Rame Servizi che diciamo più volte è andato vicino al gol che avrebbe accorciato le distanze trovandolo proprio in chiusura con Mastrelli qui c'è Balsani che appoggia per Ulisse il tiro cross che parte ci provano un po' da tutte le posizioni le due squadre in questo avvio 2 minuti e 40 secondi sul cronometro del direttore di gara sempre 2-1 per la Ragnatela Pub sull'M Servizi Gianicolo Ragnatela che vivrà la propria prossima fatica alla Longarina contro il retivivo Mr. Jeff di Gabriele il Puma e Caleca qui una sfera che carambola occhio a Lani che ha servito Tombesi che ha discreta libertà Tombesi dentro Proietti riesce a respingere buona occasione per la Ragnatela poi contrasto a 2 in scivolata non salsa nessuno e l'arbitro fa giustamente proseguire con Balsani che offre dalla parte opposta per Merlonghi ancora Balsani da quest'altra parte per Severini che osserva scorrere sul fondo Cittadini pensa al tiro poi ricomincia male però allora può dare attenzione a Placido che può accendersi e andare con le lunghe leve Placido prova col mancino deviato Daniele Placido la sua doppietta stavolta con l'aiuto di una deviazione vale comunque il 3 a 1 per la Ragnatela Pub al terzo minuto della ripresa tornano due gol di distanza tra le due squadre al ciriaci e allora 3 a 1 per la Ragnatela Pub sull'M Servizi Gianicolo punito alla prima occasione e mezzo concessa di questa ripresa Placido se ne era riuscito ad andare era riuscito anche ad andare alla conclusione col piede opposto a quello preferito col mancino una deviazione è andata a spiazzare inevitabilmente i proiettich era andato sul tiro ad incrociare nel frattempo vediamo il direttore di gara che cerca un cartellino nel proprio taschino ed è rosso per Daniele Cittadini per proteste su questo fallo allora cambia totalmente il vento della partita l'M Servizi Gianicolo dovrà giocare dal quarto minuto della ripresa in poi in inferiorità numerica Cittadini prova a spiegarsi col direttore di gara che è inflessibile cartellino rosso per il numero 9 e allora M Servizi Gianicolo in inferiorità numerica deve abbandonare il campo Daniele Cittadini nel frattempo stava riprendendo il gioco prima che il numero 9 abbandonasse il terreno di gioco che comunque dopo il cartellino non ha ceduto in proteste una blasfemia probabilmente intuiamo dalle reazioni sotto la nostra postazione il motivo del cartellino rosso mostrato a Daniele Cittadini mentre nel frattempo sull'onda del nervosismo dell'azione precedente e comunque ci sembrava una normale assegnazione di calcio di punizione per un contrasto spalla spalla in aria anche Luca Severini viene ammonito ferventi le proteste sotto la nostra postazione di Cristiano Villari e riprende il gioco al sesto minuto della ripresa la Ragnatela Pub conduce per 3-1 sull'M Servizi Gianicolo in un'importante sfida in ottica playoff sono la quinta contro la sesta del nostro torneo appunto entrambe a 20 punti prima di questa partita e la Ragnatela d'ora al termine al quale appunto mancano una ventina di minuti soffrirà anche del vantaggio numerico di un uomo dopo l'espulsione per blasfemia vi possiamo dare la conferma ci proviene appunto dalla da qui sotto la nostra postazione di Daniele Cittadini l'M Servizi che comunque non vuole arrendersi per nessun motivo e continua ad attaccare con Balsani che offre a Severini il dribbling è contrato da un buon intervento di Lani Morezzi se ne va inseguito a distanza da Balsani ha spazio per pensare Morezzi occhio che può inventare qualcosa da un momento all'altro rientra infatti sul destro Morezzi bravo Proietti a inchiodare a terra la sfera calciata dal numero 10 e a far ripartire immediatamente Merlonghi adesso probabilmente difetteranno le azioni dell'M Servizi di un punto di riferimento centrale mancando Cittadini sarà ancora più importante del solito il lavoro di quel Luca Severini così bravo sia nelle azioni di rifinitura che quando c'è da lavorare per i propri compagni qua quell'acido se ne va anche in bello stile ed offre a destra per Cardinali che può accelerare lo fa però su un gran velocista quale Luca Vetriani che riparte alla medesima velocità fino all'intervento risolutivo di Lani che non è non è appunto è solito a interventi del genere a questa puntualità in fase difensiva Lani qua va a commettere fallo su Luca Vetriani appunto nel frattempo grandi proteste dalla macchina dell'M Servizi Gianicolo che chiede il cartellino giallo in favore di Lani che è stato uno dei primi espulsi per blasfemia quest'anno contro il Checco dello Scapicollo eravamo proprio qui al Siriaci in quello che era il big match se non andiamo errati della quarta giornata e la rimonta che la Ragnatela Pub riuscì ad infliggere ai campioni d'Italia in carica arrivò senza l'ausilio di Francesco Lani espulso inizio ripresa si era 2-0 per la Ragnatela finì e 3-3 ma questa è un'altra storia prova a scriverne un'altra che sembra però già assegnata qui al Siriaci Luca Severini da calcio di punizione ce ne sono due sul primo palo c'è lo stop in area però viene forse trattenuto Gemelli che ha comunque usato il fisico che non protesta assolutamente contro Ponziani che gli dà il 5 è già ripartita l'azione della Ragnatela 8 minuti e 15 secondi quando Placido riesce a cambiare gioco per Tombesi anticipato dall'ottimo intervento difensivo del numero 16 Alessandro Pasciente poi il tacco in bello stile di Lani per Cardinali che adesso naturalmente soffrirà meno la pressione portata dagli attaccanti dell'M Servizi che trovandosi in sette deve un po' scegliere quale uomo della Ragnatela lascia libero qui Cardinali subisce fallo facendo infuriare ancora la panchina dell'M Servizi occhio a Morezzi al tiro cross è entrato alla disperata nell'occasione Vetriani che è riuscito a deviare il cross di Mauro Morezzi in corner e lo stesso Mauro Morezzi lascia lì la sfera per l'incombenza che sarà dettata da Francesco Lani che probabilmente andrà col destro a uscire Vallani rasoterra ha provato il tocco in direttamente all'ingresso dell'area di riveure Ponziani che è andato in inserimento la palla in verticale giocata da Pasciente è però nella terra di nessuno terra occupata dal solo Alessio Ripani che fa ripartire i suoi sono con i tre di oggi ben 24 i gol segnati dalla ragnatela pub in casa occhio a placido dentro ha provato la deviazione d'Arpino intanto time out chiamato dalla panchina dell'M Servizi Gianicolo che è in inferiorità numeriche sotto di due gol deve un attimo riassestarsi noi andiamo in pausa allora rieccoci al ceriaci nella tredicesima giornata di Serie A della Liga Calciotto la prima di ritorno la ragnatela pub sta conducendo all'undicesimo minuto della ripresa per il 3 a 1 sull'M Servizi Gianicolo che si ritrova da 7 minuti circa anche sotto di un uomo per l'espulsione per blasfemia di Daniele Cittadini che appunto costringe i biancorossi a dover tentare la rimonta con l'uomo in meno sembrano poter avere coraggio e mezzi per tentare appunto un'impresa che appare comunque difficile la regna della pub naturalmente non è d'accordo e vedremo se riuscirà a tenere in difesa come così per esempio non è stato contro Tony Ponzi attenzione a Severini che si va a liberare in area Ponziani lo trattiene non è calcio di rigore per il direttore di gara Proietti ribatte direttamente dall'altra parte Morezzi vuole ragionare Morezzi è ricevuto da Tombesi va lungo dentro Morezzi lo stop addirittura col petto di Pasciente poi con calma olimpica Gimelli su Mastrelli bravo a controllare l'altezza dell'out e ad offrire a Gimelli con Pasciente che può salire di nuovo Severini riesce a girarsi dietro di sé Ponziani tiene comunque la palla solo finché poi Ponziani non gliela va a togliere offrendo a Tombesi Balzani da dietro non c'è fallo perché interviene sul pallone che rimane comunque a disposizione della Ragnatela Pab il cambio di gioco è impreciso può solo tenere in campo il pallone D'Arpino che poi deve fronteggiare il tiro ad incrociare da parte di Mastrelli ha segnato il gol del parziale 1-2 adesso ha provato davvero da distanza siderale a beffare Ripani che nella prima frazione si è reso protagonista proprio su Mastrelli di un paio di interventi assolutamente strepitosi uno su un colpo di dacco uno su un tiro a giro qua Gimelli deve accelerare per contenere la corsa di Placido Tombesi ha provato a servigli un assist siamo già dall'altra parte con Pasciente che tiene palla e la gioca in verticale mare però su Severini Ponziani è bravo in anticipo non altrettanto bravo nel servizio offrendo fallo laterale all'emme servizi Gianicolo 13 minuti 25 secondi sul cronometro del direttore di gara sempre 3-1 per la Ragnatela Pab nello scontro diretto tra la quinta e la sesta forza della Serie A della Lega calcio a 8 occhio alla palla che rimane lì con Balsani che la vuole controllare liberare il destro non ci riesce si ricomincia da Mastrelli Mastrelli prova il tiro ancora Ripani è sfida aperta tra i due Mastrelli contro Ripani per adesso siamo 3-1 per Ripani come 3-1 per la Ragnatela Pab sull'emme servizi Gianicolo tre parate decisive del portiere di mister Dupachie stanno impedendo all'emme servizi Gianicolo di essere appunto in partita prova a rimanerci con il tocco di Severini attenzione a Vetriani che prova a entrare in area poi si ferma a lato corto e rasoterra dentro la sfera che scorre e Darpino deve giocare direttamente fuori seppur in inferiorità numerica all'emme servizi riesce ad offendere grande pericolo corso dalla Ragnatela Pab con Darpino che addirittura stava rischiando l'autorete per porre la palla fuori cross rasoterra stavolta e Morezzi bravo addirittura ad inchiodarla lì allora a poter far trascorrere qualche secondo prezioso per la ripartenza che avviene adesso col lancio su Placido c'è la trattenuta di Placido su Gimelli stavolta la vede l'arbitro dall'altro lato del campo e offre quindi la punizione all'emme servizi che è già abbattuta Balsani prova a salire alla disperata attacca l'emme servizi che ha una decina di minuti per mettere a segno le due reti che le consentirebbero di pareggiare ha riarretrato il proprio baricentro pericolosamente la Ragnatela qua intervento in scivolata di Placido messo giù Severini viene chiamata l'ammunizione per quanto riguarda la panchina bianco-rossa c'era l'intervento da dietro non era cattivo era sul pallone ma da tergo ammunizione che ci poteva stare c'è comunque il calcio di punizione per l'emme servizi Gianicolo sul punto di battuta c'è Severini c'è anche Mastrelli lo stesso uomo che è andato a conquistarsi precedentemente un calcio di punizione infatti si allontana Severini tre in battiare e va Mastrelli il suo destro direttamente sul muro che era andato a rimpolparsi anche della presenza di Danversa qui palla scagliata direttamente in fallo laterale dalla Ragnatela già battuta la rimessa dentro Severini all'indietro per Mastrelli prova a far passare che hanno il fallo di mano quelli della M servizi ma riparte il contropiade della Ragnatela pub tre contro due c'è Danversa tutto solo Danversa mette alto sulla traversa sarebbe potuto essere il gol che avrebbe nel frattempo cartellino giallo al centro del campo per Balsani abbiamo interrotto poc'anzi la telecronaca perché il direttore di gara stava scrivendo qualcosa sul proprio da qui non aveva fischiato nell'occasione vediamo se è andato ad ammonire qualcun altro ma sembrano essere ancora sette i giocatori delle M servizi Gianicolo sul terreno di gioco quindi nessuna espulsione abbiamo perso per un attimo contatto con quello che stava accadendo sul terreno di gioco Mastrelli prova col destro conclusione sul primo palo larga Ripani rimette ora per Amorezzi sale Morezzi tre uomini di fronte a sé dell'M servizi ma Morezzi ha spazio per cercare Cardinali che si è sovrapposto bene qua a destra va Cardinali col destro palla troppo chiusa sul primo palo allora Mastrelli tra i migliori dei suoi ultimo ad arrendersi va con l'esterno per Severini altra palla intercettata bene da Fonziani che sembra aver preso le misure poi Placido le solite finte doppi passi Di Placido che finisce per perdere la sfera anche per commettere fallo su Vetriani punizione già battuta Gimelli su Mastrelli Mastrelli che riesce a tenere la sfera appoggiandola a destra altro appoggio da Balzani a Mastrelli che stavolta non riesce ad arrivare sulla sfera time out chiamato dalla banchina della Ragnatela Pub sul 3 a 1 e noi andiamo in pausa fallo laterale che verrà abbattuto da Cardinali su Morizzi che stoppa col piatto e gioca in avanti Gimelli anticipato anzi era stato lui ad anticipare l'avversario poi è stato toccato da dietro Cristiano e Gimelli l'emeservizi Gianicolo che prova a ripartire la prossima gara verrà giocata contro la San Giovannella Luca Betriani in possesso palla a Balzani Balzani rientra sul destro va con la conclusione Balzani Ripani riesce a controllare Ripani al rinvio è lungo ma di testa riesce a svettare la difesa dell'emeservizio allora Balzani a destra per Mastrelli che manca ancora una volta il controllo probabilmente stanco dopo i tanti chilometri percorsi sul terreno di gioco qui al Ciriaci Mastrelli ha comunque la forza di andarsi a conquistare un buon calcio di punizione quando mancano cinque minuti circa al termine del match e la ragnatela pub conduce 3 a 1 sull'emeservizi Gianicolo qui al Ciriaci parte attenzione un colpo di testa di Gimelli fuori non di molto sulla punizione battuta velocemente la rimessa dal fondo operata ora da Ripani su calcio da fermo riesce a essere sempre pericoloso l'emeservizi Gianicolo seppure in inferiorità numerica sono alti e forti fisicamente i propri giocatori ogni tanto la ragnatela pub ha dato prova in questo campionato di soffrire qualche amnesia da corner ma conti fatti a cinque minuti dal termine sta portando a casa la ragnatela una vittoria che potrebbe risultare fondamentale per il prosieguo del proprio torneo appunto nella terz'ultima giornata del girone d'andata palla giocata a lunga c'è Morezzi che riesce a intercettarla occhio ad Anversa c'è Placido allargato lo serve ad Anversa che vorrebbe la palla di ritorno Placido dribla palla sul destro per Placido c'è la deviazione di Balsani direttamente in corner chiede da dietro un tocco con la mano Cardinale nell'occasione Balsani era di spalle probabilmente ha toccato il pallone col gomito l'arbitro ha optato per l'involontarietà nell'occasione precedente Lani il corner battuto ha provato a staccare Morezzi da fuori poi il destro di Mirko D'Arpino c'è un'altra deviazione sarà ancora corner Morezzi sempre letale quando stacca sia sul primo palo sia a centro area seppur non sia certamente il più alto giocatore in campo è bravo è esperto tanto da poter trovare sempre la posizione e lo stacco giusto per arrivare sulla sfera altro angolo per la ragnatela battuto anche Xo bene a rientrare viene respinto il solito D'Arpino a dare ossigeno all'attacco azione in fotocopia calcio d'angolo ancora per i ragazzi di Dupachier che riescono a far passare anche secondi preziosi siamo a tre minuti dalla segnalazione del recupero da parte del direttore di gara il corner è fuori per Danversa che però non si è ravveduto delle intenzioni del compagno Placido ha recuperato solo per un attimo poi Mastrelli si è aiutato col fisico e ha guadagnato anche un calcio di punizione fermi i giocatori stavano protestando nell'occasione precedente per la mancata assegnazione al loro modo di dire di un rigore su Placido ma la ragnatela è già ripartita velocissima con Ponziani che ogni qualvolta riesce a proiettarsi in zona offensiva è pericoloso è bravo è ottimo nel controllo di palla e con intelligenza anche in questo caso va a conquistarsi un calcio di punizione che verrà battuto di seconda come ricorda l'arbitro vicino appunto al punto di battuta dove si trovano Morezzi e Placido alzando il braccio destro quindi dovrà esserci necessariamente un tocco immaginiamo prima della battuta anche se non ci sembrava gioco pericoloso allora vediamo se l'arbitro segnala la punizione di seconda anche se ora non sembra prima aveva alzato il braccio sta per partire Morezzi il suo destro a giro che spiove buona l'idea la realizzazione vicina all'incrocio dei pali difeso da Proietti che ha già Balsani prova ad andare cost to cost Balsani resiste a un paio di cariche e offre a Severini palla di ritorno poi Lani la rinvia direttamente dalle parti di Proietti servirebbe un miracolo adesso l'M servizi Gianicolo sotto di un uomo sotto di due reti contro la Ragnatela Pub che invece vede concretizzarsi all'orizzonte una vittoria fondamentale per quanto riguarda la zona playoff qui il cross dentro è controllato e poi rinviato da D'Arpino che è abbastanza impreciso ma è una zona dove c'è il solo Morezzi che controlla la grande è un pallone che spioveva a subire fallo da Veltriani sul 3 contro 2 per la Ragnatela Pub non è mai punizione mai punizione nella vita mai punizione Nari 10 da 10 mai punizione Nari proseguono le proteste qui intorno al terreno di gioco non se ne vede Morezzi che vuole trovare la realizzazione in questa notte Morezzi che fermo a 10 reti terzo marcatore per quanto riguarda la Serie A della Lega Calciotto 10 gol in 11 presenze due uomini in barriera posti da Proietti sta per partire Morezzi due in barriera Morezzi raso terra sul tocco di Placido pallacrimane lì ha provato Danversa e Proietti è riuscito a metterci il fisico poi Vetriani fuori per Morezzi doppio dribbling del numero 10 che porta palla trattenuto entra in area Morezzi vicinissimo al gol del 4 a 1 azione straordinaria del numero 10 3 saranno i minuti di recupero chiamati dal direttore di gara sempre 3 a 1 per la ragna della pub sull'M Servizi Gianicolo punteggio anche condizionato dall'espulsione di Daniele Cittadini in apertura di ripresa che non ha consentito di giocare appunto in parità numerica ai biancorossi che comunque provano a offendere con Severini che s'allarga e poi va al tiro cross c'è una deviazione Ripani viene disturbato da un compagno e rimane a terra offrendo il calcio d'angolo all'M Servizi nell'occasione si è andato a scontrare con un compagno si tiene la mano destra nel frattempo in attesa della battuta del corner andiamo in pausa ed è rimessa dal fondo invece per Ragnatela Pab attendevamo la rimessa di un appunto attraverso un corner è ripartita l'azione dei ragazzi di Dupachie dalla sinistra Placido il cross di Placido viene deviato da Gimelli nell'occasione Placido prova a tenere la sfera sulla linea di fondo l'intervento di Ulisse crediamo è regolare anzi è Balsani viene trattenuto da dietro da Lani che si guadagna il cartellino giallo il giocatore in maglia numero 5 che poi chiede la munizione anche per Balsani che ha sgomitato nell'occasione ma capiamo il nervosismo dei ragazzi dell'M Servizi Gianicolo che sta perdendo una sfida importante in classifica rafforza la propria quinta posizione si proietta in avanti la Ragnatela Pab a 23 punti resta a 20 l'M Servizi Gianicolo che dovrà ripartire per forza di cose dal prossimo incontro da giocarsi appunto allo Sport City per cercare di rinnestare quella marcia che l'aveva resa nelle prime 6 giornate una delle formazioni appunto che appariva favorite per quanto riguarda il successo finale siamo alla fine del G9 d'andata nulla è naturalmente compromesso nulla è già deciso Balsani prova comunque con orgoglio a portare palla per i suoi il suo sinistro Ripani la lascia lì e arriva poi l'intervento e vediamo c'è il fallo fischiato in favore della Ragnatela Pab fallo commesso da Severini su Ponziani c'è Ponziani a terra nel frattempo noi andiamo in pausa e attendiamo la ripresa del gioco l'intervento dei sanitari della panchina della Ragnatela Pab è riuscito a ripristinare le condizioni Gianluca Ponziani che si è spiegato nell'occasione precedente con Luca Severini è andato a subire fallo Severini era molto vicino sulla respinta corta di Ripani a siglare il gol delle 2 a 3 che probabilmente non avrebbe cambiato la sostanza del punteggio ma avrebbe accresciuto le speranze appunto di un M servizi Gianicolo che non ha comunque sfigurato nemmeno un'inferiorità numerica a cospetto di una Ragnatela che tutto sommato per solidità mentale sembra aver meritato la vittoria occhio a dentro a Placido che ha stoppato la sfera è stato bravissimo nell'occasione pascente ad andarlo ad anticipare e Vetriani qui a subire fallo di Lani l'azione c'è Mastrelli che prova col destro a giro c'è Ripani che accompagna con lo sguardo l'uscita del pallone ed è pronto a rimettere tanta tensione in questo Ragnatela Pabba M servizi Gianicolo sia dentro che fuori il campo ne ha fatto le spese al quarto minuto della ripresa Daniele Cittadini che è stato espulso per Blasfemia episodio che ha condizionato un po' il secondo tempo giocato dai ragazzi di Evila riaggialinati da Fabiani va concludendosi il match nel frattempo ma Balzani vuole attaccare fino all'ultimo rientra sul destro solo per un attimo sarà corner concesso all'M servizi Gianicolo probabilmente su quest'azione potrebbe essere l'ultima del match il tiro deviato di Vetriani ancora in corner ancora a disposizione di Balzani l'arbitro ha già il fischietto in bocca gioca palla fuori Balzani sulla conclusione di sinistro di Gimeli che va vicinissima al palo alla sinistra di Ripani Ripani a rinvio direttamente su Daniele Placido è l'ultima palla del match triplice fischio del direttore di gara la Ragnatela Pub batte 3 a 1 l'M Servizi Gianicolo nella tredicesima giornata della Serie A della Lega Calcio 8 e vola a 23 punti in classifica importante vittoria degli uomini del Ragno in uno scontro e playoff di Gimeli